E questa è una punizione da vedere perché sempre sono da seguire le punizioni del piede magico di Roberto Carlos. Addirittura ci prova da tre quarti di campo. Vediamo quello che succede. Il tiro. Splendido, splendido gol. Fantastico gol di Roberto Carlos. E questa è una punizione da vedere perché sempre sono da seguire le punizioni del piede magico di Roberto Carlos. Addirittura ci prova da tre quarti di campo. Vediamo quello che succede. Il tiro. Splendido, splendido gol. Fantastico gol di Roberto Carlos.